C'è un'opposizione al progetto di un nuovo palazzetto dello sport che dovrebbe sorgere proprio qui e che è già partito, ci sono anche dei finanziamenti. Ne parliamo con una consigliera comunale che è Anna Maria Piccinelli. Quindi a che punto siamo con questo progetto e perché per voi invece sarebbe importante agire diversamente in questa zona? C'è già l'accordo di programma con la regione, la quale finanzierà per 1.600.000 euro e la restante parte per arrivare ai 3.500.000 circa sarà a carico naturalmente dal comune. In questa zona che è la zona della scuola elementare e soprattutto della passeggiata dai Casalaschi, molto amata e frequentatissima da decine, anzi centinaia di persone, sorgerà questo palazzetto che dovete immaginarlo come un cubo di un'altezza molto superiore a quella della scuola perché sarà almeno sugli 11-12 metri, sicuramente superiore ai 10 e che con i parcheggi e le strade interesserà anche tutta la zona fino ai margini, ai piedi dell'argine. Il bisogno di una struttura sportiva c'è sicuramente per tutta una serie di ragioni che sarebbe a lungo spiegare, ma potrebbe essere una struttura sportiva assolutamente meno impattante, anche perché ci sono anche palazzetti vicini a cui ci si potrebbe rivolgere. Non è soltanto un impatto legato alla bellezza, questa è una zona acquitrinosa, c'è una scuola che ha bisogno di spazio perché col Covid è stata interamente occupata, i bambini non hanno più neanche i dormitori e sicuramente questa struttura sportiva di cui c'è bisogno, ma magari di dimensioni assolutamente diverse, solo senza pubblico, per poco pubblico, potrebbe essere fatta in una zona completamente diversa, magari proprio al centro sportivo qua vicino. C'è ancora tempo per cambiare questo tipo di progetto? Tempo, finché non vediamo qui le ruspe, non si parte in senso concreto, certo più voci si alzano e meglio è, a livello di carte e di passaggi amministrativi certo siamo in uno stato molto avanzato.